I rifiuti, le strade di Palermo sono invase perché? Perché è l'ANIA che governa il sistema dei rifiuti a Palermo, abbiamo offerto al sindaco disponibilità anche perché per far lavorare gente che potrebbe farlo senza che al comune costi un euro in più, non le vuole sapere, serve per rivolgergli un messaggio, noi siamo disponibilissimi a dare una mano, non gli chiedo in cambio niente, neppure di smettere ogni tanto di insultarmi, se vuole lo faccia pure, se gli fa bene alla salute, sto scherzando, è una battuta, però siamo pronti a collaborare, lo è l'assessore Marino che di questa città peraltro è stato prefetto, lo è il governo regionale. Secondo punto, la Commissione Pecorella ha recepito in pieno le nostre osservazioni che poi sono state oggetto di un dossier che abbiamo consegnato alla Procura di Palermo. Il sistema termovalorizzatore che abbiamo smantellato, smantellamento dal quale non sono venuti pochi delle rotture, delle fratture, delle aggressioni, degli attacchi alla mia persona e al governo regionale, maggioranza sono diventate opposizione e le opposizioni sono diventate maggioranza, questo sistema è saltato, era un sistema truccato, illegale, illegittimo, intriso di malaffare e di mafia, che avrebbe condizionato e danneggiato la Sicilia per i prossimi 30 anni. Perché? Perché la salute della gente, l'ambiente, il costo dei rifiuti sarebbero stati alterati da un sistema che siamo riusciti a far saltare. Da questo poi vengono tante cose nella politica, perché attorno a quel sistema si erano coagulati degli interessi illeciti che sicuramente c'è da presumere avessero più che dei terminati nella cosiddetta politica. Dico cosiddetta perché non mi sentirei di definirla tale, perché attribuisco un significato moralmente alto alla politica e ai suoi effetti. Oggi Pecorella è venuto a dirlo, siamo rimasti che il nuovo piano dei rifiuti che è all'esame della protezione civile del Ministero Ambiente, con cui intendiamo comunque convenire su un'ipotesi concordata, sarà illustrato alla Commissione di mafia che ci ha sfidato, detto, se la Sicilia passa da quel sistema sbagliato ad uno giusto e positivo, sarà un successo per il Paese, per l'Italia intera e anche per la Commissione che in questo percorso ci ha accompagnato.